Intanto dobbiamo spiegare che Berlusconi è ancora in campo ed è ancora in campo perché ha sentito e sente il dovere di rispondere con la sua presenza e col suo lavoro a queste due missioni che ci siamo dati come Forza Italia. Ci siamo dati due missioni, una in Italia e l'altra in Europa. La missione in Italia, quella di mandare a casa questo che ancora si chiama governo perché fa male all'Italia, fa male agli italiani, litiga ogni giorno su tutto. Seconda missione, cambiare l'Europa e cioè dobbiamo fondare come l'abbiamo fatto in Italia 25 anni fa, dobbiamo fondare anche in Europa un centro testa e alleandosi con i liberali, con i conservatori, con le destre democratiche, magari anche con certe teste calde dei partiti sovranisti come Orban e Salvini, possa essere maggioranza nuova in Europa. E questo esperimento l'abbiamo già fatto perché è con questa nuova maggioranza che abbiamo eletto a Presidente del Parlamento europeo il nostro bravissimo Antonio Paiari. Un abbraccio attetuoso a tutti. Votate Berlusconi! Grazie Presidente! Ciao a tutti!